Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Audrey che la dedica a Patte, vuole che parli del film del 2024 di Gianluca Mattei e Mario Sansullo, dobbiamo stare vicini con protagonisti unici, praticamente Biagio Izzo, Francesco Paolo Antoni, bei tempi, i tempi della giallappa, i tempi in cui ci facevi ridere, e Paolo Conticini, un altro che ha un grandissimo talento recitativo. La storiella è una pochade che sarebbe stata forse buona negli anni 50, ci sono i classici vicini di casa che non si sopportano, Biagio Izzo è un imprenditore che fa feste, fa ribotte e quindi rompe i coglioni, invece quell'altro vicino di casa è Paolo Antoni che è un ex statale che è tutto a modino, tutto quadrato e che non vuole rompimenti di cazzo. Praticamente mentre li dicono si sfonda un muro e scoprono che c'è una stanza fra una casa e l'altra e quindi quando scoprono che c'è una cassaforte vogliono fare a lotta per scoprire insomma di chi è questo cazzo di pezzo di stanza per poter aprire così la cassaforte. In mezzo a questo arriva Conticini che è presente l'amministratore del palazzo e tutti gli altri condomini del palazzo che a un certo punto scoperta la cassaforte vogliono a un certo punto scoprire che cosa c'è dentro e lì parte questa caccia al tesoro che più che una caccia al tesoro è una caccia al letto, nel senso che dopo 20 minuti ha una voglia di dormire che nemmeno veramente quattropena in total. Perché siamo di fronte veramente a uno dei film più fiacchi dell'universo al di là appunto di un viaggio eizzo che sa fare il suo lavoro al di là di un palantoni che a me ha sempre fatto simpatia qui mi mette però un po' tristezza. Vogliono farci credere veramente che l'Italia è pronta a tutto non c'è cattiveria tutti buoni tutti cattivi all'inizio e poi tutti buoni sembra la comunità senza che l'abbia gelata l'ex dell'eglesia in un cascheggia di follia e quando viene lo scassinatore che non si capisce bene perché diventa surreale e grottesca in un attimo la cosa quando il film in realtà è veramente piatto ma piattissimo a livello di regia una regia che sta ferma lì non si muove con una fotografia di una banalità assurda un montaggio lentissimo per un film che annoia annoia a morte non ce la puoi fare e tutto quello che accade attorno anche il notaio che dovrebbe essere che chiare soldi ma cos'è roba veramente vecchia ma vecchia che cazzo si racconta una storiella buona per fare tre righe che viene allungata all'inverosimile da battute che non vanno mai nel segno da atti di buonismo veramente retorici che non rappresentano minimamente la realtà sono classici film che non sanno dove andare la chimica che ci potrebbe essere fra Izzo e l'altro che adoravo ai tempi ho vinto qualcosa che qui fanno anche la citazione per l'amore del cielo è anche discreta arriva poi con Ticini a distruggere tutto e poi tutti gli altri attori sono buttati a caso non c'è profondità non c'è un cazzo l'unica cosa che si ricerca un attimino è di mancare la volgarità ecco in quello il film può sembrare un film e diciamo interessante nel senso che non scurreggiano e rutan ogni 5 secondi non c'è mai veramente un esplosione e di cattiveria dove non c'è mai un esplosione di verità dove non si ricerca mai niente altro che non sia esclusivamente l'intrattenimento mentre uno stira perché poi per il resto è il classico film che tipo girà per 20 minuti riguardarlo non è cambiato un cazzo perché i personaggi sono talmente stilizzati così perché la scrittura è talmente banale perché la regia è talmente fiacca che alla fin fine ti sei rotto il cazzo dopo 20 minuti e fai vabbè portiamo avanti sembra un film ambientato veramente negli anni 50 e non lo è e tutto quello che dovrebbe essere corale e dovrebbe essere così forte che dovrebbe intrecciare tutti questi personaggi in realtà rimane semplicemente della roba a gag teatrale parla uno parla l'altro mai uno che parli sopra l'altro se no sembra che non si senta no ma non siamo un teatro e siamo al cinema potete benissimo e parlarvi sopra c'è il sonoro non riesco a capire chi ha scritto questa sceneggiatura come potesse pensare che funzionasse che potesse essere divertente dobbiamo stare vicini no no stai bello lontano da me perché ti ho visto una volta e può anche bastare se c'è io il link lo metto qui sotto non si sa mai donate sul pato mi piace iscrivetevi al canale qui sotto c'è anche il pulsante per grazie e perdonate direttamente su youtube seguitemi su facebook e su instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'italia e ripeto dobbiamo stare vicini è un film talmente sbagliato ecco